La ragioneria generale dello Stato non ha effettuato la cosiddetta bollinatura perché vi sono in questo parere una serie di rinvii alle singole amministrazioni competenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia delle Dogane, al Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze che necessitano della fornitura ufficiale di pareri per consentire alla ragioneria di dare il parere obbligatorio. E fin qui non stiamo facendo un'operazione da stracciarci le vesti. Se non che questo tipo di operazione in un decreto non si fa a valle del percorso, si fa a monte, non si arriva in aula aprendo la discussione generale e poi di colpo di notte ci si rende conto che c'è qualche problema. Anche perché, signor Presidente, lo dico solo incidentalmente, uno dei rilievi che pone la ragioneria generale dello Stato è relativo alla copertura degli oneri per la ricostruzione del ponte Morandi, che è il tema centrale di questo decreto. Allora, noi siamo qui perché vogliamo due cose, lo anticipo anche ai colleghi. Noi vogliamo approvare il decreto nella parte relativa al ponte Morandi perché Genova deve avere il suo ponte e deve avere le risposte che attende, così come siamo qui per chiedere lo stralcio di quella vergogna del condono su Ischia. Ma questi elementi impongono una necessaria riorganizzazione dei nostri lavori.